Musica Ciao a tutti ragazzi sono Dijente e ben ritrovati qui sul mio canale Siamo tornati qui con Minecraft con la mini George Survival Signori, prima di tutto volevo premettere Grazie a tutti per aver capito che è stato fatto in buona fede il titolo messo nello scorso video Quindi vi ringrazio e basta Mi avete dato un po' di consigli Intanto qui c'è altro ferro e mettiamo a cucinare l'altro che ci eravamo anche scordati Qui dovrebbe esserci l'oro infatti Boh, mettiamoci a cucinare anche l'altro oro Quindi grazie a tutti Ok, cominciamo a postare un po' di roba che non ci serve Cosa possiamo farci di ferro? Ah, io ho ancora due diamanti, ditemi cosa fare questi due diamanti Magari me li tengo Appena ne trovo un altro mi faccio un bel piccone Signori, e sti cazzi Abbiamo le torce? No, non abbiamo torce? No, facciamoci un po' di torce Perché possono servirci un po' di torce Quindi prendiamo il carbonzio E facciamoci un po' di torce Quindi prendiamo magari metà di questo E prendiamo metà di questo Vediamo quante torce Va bene, ci bastano Direi che ci abbastano Possiamo posare il carbone e anche il secchio Direi Magari dopo il ferro lo possiamo posare Perché ho paura di morirci male Capitolo cibo Abbiamo un po' di grano qui Dato che ora abbiamo sotto il coal infinito Ho visto che abbiamo lo spawner di cazzi Avevo visto altri semi lì però fa niente Abbiamo tre panini che non ci abbastano per niente Quindi io direi intanto che torna giorno Qui ho altri semini Facciamo questa maniera Ditemi se siete d'accordo Ovviamente Facciamo crescere il grano Così abbiamo un po' di cibo da trasportarci Allora Questi qui erano Ok sì Questi qui erano i meloni E le zucche Vediamo se crescono E come Allora Dovete dirmi come crescono le angurie Io non ho idea Se la anguria nasce indietro come la zucca Non ho idea Quindi signor Io direi Di posare il coal La farina d'ossa Possiamo questi qui che non ci servono Abbiamo altro grano qui Vabbè io sono stronzo Perché se li pianto Li devo raccogliere Giusto? Giusto Ecco lo sapevo La zappa ce l'abbiamo? Sì che abbiamo la zappa Abbiamo tutto signori Riprendiamoci i semi Che ripiantiamo subito Tu mi stai simpatico Ma proviamo qui dai Proviamo a metterli anche qui Tante volte Lo so È un po' incassinato come orto È tipo all'orto di Quello dei Simpson Quello Non so se vedete i Simpson Quello lì che Ok abbiamo finito i semi Vabbè sti cazzi Signori Questo albero qui Mi sta sul pene Quindi direi di Portarlo e spostarlo Magari qui Ok signori Abbiamo tutto Abbiamo un piccone Eccetera eccetera Andiamo all'altra isola Io qui dovrei farmi Poi più là Un bel cancelletto Speriamo di non morirci male Ci sono dei creeper E io ho tanta paura Quindi sapete che faccio? Io me ne vado Allora io direi di andarli su Direi di andarli su E io per andarli su Dovrei farmi una cazzolina Di scaletta Perché io lì su Ci sono andato Allora facciamo una cosa Intanto qui utilizziamo Il buon vecchio metodo Del hoho Il famosissimo metodo Del hoho Signori Perché è rotto qui Il famosissimo metodo Del hoho Ok in questa isola Ci siamo andati Ok questa era l'isola L'isola L'agga surdo L'agga incredibile Ok questa era l'isola Allora intanto Allora qui ci siamo andati Ok questa era l'isola Dove c'erano i mob Che ci sono entrati in casa E questa era l'isola Capovolta Ok Io direi Non so qual cubo Cosa serva Non so se C'è da sbloccare altro Però siccome qui Mi attizza questa forestina qui Io direi di andarci Proprio qui Però Non so perché Ci vado da sopra Ci andiamo da sotto Classico Ok quindi Rirompiamo Come rovinare il piccone Ragazzi Ok rompiamo di nuovo qui E ce ne andiamo Per di qua Rompiamo qui E rompiamo qui E cerchiamo di non cadere Perché abbiamo molta roba Preziosa Ok Perché non mi sono fatto i panini Dato che ho il grano Prendiamoci il grano Ok Quanti panini dai Quanti panini dai 10 Va bene Io direi che infatti Stiamo morendo di fame Mangiamo subito Pane 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 Ok Ok Cerchiamo di non morirci Malissimo Entra qui Ok Piano piano signori Direi Ma proprio piano Magari quando finisco Ok Io direi di iniziare A salire Ecco magari non così Madonna Stavo lasciando lo shift E mi stavo cagando In mano Ok Ok Mi stavo cagando in mano Non so Se vedete la mia faccia Ora l'ansia Che ho addosso Ho l'ansia C'ho il 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 Vabbè Il dito Che premo lo shift Che mi sta sudando In una maniera assurda Però dai Sono diventato più veloce Io non sono un pro a minecraft Eh ve lo dico E penso si sia notato Infatti sto consumando La cobblestone Ma bravo giant C'è Ma tranquillo proprio Ok Siamo arrivati Fammi piazzare bene qui Ok Lascio lo shift Tranquillamente Se poi bucacchi dentro Salve Stronzo Io non mi sono portato L'acetta No maiale Tu non devi assolutamente Uscire di qui Maiale Maiale tu non Non devi uscire di qui Ok Ok Io torno subito Vado a prendermi Un'ascia Perché altrimenti Tutti sti alberi Non possiamo disboscarli Ok Facciamoci una bella Ascetta 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 Ce la facciamo in pietra Tanto sti cazzi Signori Noi siamo A cab No magari Questo lo possiamo Qui Che cazzo sto facendo Ok Rilassati Ok Ascia Ok Riposiamo tutto qui Perché non No Questi magari li prendo Riposiamo tutto qui Perché non voglio perdere Nulla Per niente al mondo E corriamo Corriamo Magari non corriamo Perché ho una paura Fottuta di cadere Signori Ok Cerchiamo di fare Di Ok Io qua chiudo Non ci sa mai sto maialino Tu devi procreare Amico mio Sì tu Tu sarai un porco Devi essere un porco Ok Io direi di prenderci Di fotterci sta legna Ok qui c'è un dungeon C'è un dungeon Oh No 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 Torce 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 Io direi di Bloccare Che cazzo sono sti cosi Oh Oh che sono Che sono sti cosi Che sono sti cosi Che sono sti cosi Oh Non li ho mai visti Ma che roba è Oh Siamo pazzi Sono tipo dei ranni velenosi Oh mio dio Mi son cagato in mano Ok andiamo subito a vedere cosa c'è nella cesta Ma che schifo Non li avevo mai visti Cos'è Smeraldo Smeraldo grezzo Ottimo E mi sa che era un achievement Me lo ricordo Qui ci sono mucche No ma qui sponano Qui sponano Ma perché sponano Ok allora facciamo Dove Ma porco schifo Devi morire Ma son velenosi Ma porco schifo Allora tu Ok Blocchiamo per bene Ok Io non voglio romperlo Perché Non si sa mai Siccome c'è il Il Come si chiama Il Oh non mi viene C'è l'achievement Del tavolo degli incantesimi Quindi Non si sa mai Potrebbero servirci Per aumentare La L'esperienza Io Cioè Non saprò giocare a minecraft Però qualcosina la so Guardate che 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 Fruit ninja Io ero Il pro di fruit ninja Ecco perché Mi vedete col cappello Perché ho dei capelli orribili E non voglio farveli vedere Oh Ma avete rotto le balle Ma da dove escono Ma ce n'è un altro Di sponno Per forza Pronto Ok Facciamo una cosa Per ora Ti chiudo Ok Vediamo se ne sponano Ancora E vaffan cuore Ok Continuiamo a rompere Zappiamo A legna Ok Poi qui cadranno Innumerevoli sapling Cioè in una maniera assurda Io vedo roba sugli alberi Ma che cazzo è Ah no Ok Semplicemente Vediamo se riusciamo a fare Due isole Sono a dieci minuti Devo ricontrollare L'achievement Dello smeraldo Perché Se non ricordo male C'era qualcosa Un blocco di smeraldo Quindi penso A intuito Io non so come si Si faccia Però penso che A intuito Bisogna metterli Attorno a torno Io sono un genio Lo so E sono sicuro Che lo troverò Bene Sto dicendo Le cazzate Mangiamo Perché se Mi colpiscono Un'altra volta Sono cazzi Avari Oh che palle Fare il boscaiolo Il boscaiolo Io sono curioso Di andare qui su Perché Boh Non si sa mai Si può essere Qualcosa di interessante Eh ancora Ma vedi che escono Ma È scappato Ehi Vieni qui Perché sei timido Ma non droppano niente Poi sti cosi Boh Io devo andare su Ragazzi Perché secondo me C'è l'altro spawner Oh Pronto Pronto Che c'è qui su Una ceppa Perché Dico io Mi spiegate Perché Continuano a droppare Ok Facciamo una cosa Guarda lì Vabbè Io esco di qui Ok Fatemi sapere Ah porco Di uno schifo Che poi sono Guarda Scappano Poi sono Più scarsi Diciamo Dei 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 ranni Normali Ok E questa L'abbiamo Esplorata Noi qui Chiudiamo Andiamoci a postare Subito Tutto quello Che ci serve Perché se perdiamo Gli smeraldi Soccazzi Io qui chiudo Io qui chiudo per Scacazza Ok Vediamo un posto Blocco di Andiamo a vedere Gli achievement Ragazzi a me stasera Mi piace Allora Prismarine Find Emerald Bloc Ok Un blocco Un blocco di Smeralde Quindi A intuito Dovre No Come si fa Pronto Come si fa Il blocco Di Gli ho presi Tutti Sì Oh Questi erano Come si fa Il blocco Di Smeraldi Ragazzi Non ne ho La più Pallida idea Aiuto Vabbè Me lo direte Voi Qui rompiamo L'altra Canna da Zucchero Allora Io vi invito Facciamo una cosa Tutti quanti Quando vi faccio Le domande Tipo che vi chiedo Consigli Tipo Come si fa Il blocco Di Smeraldo Siccome voi Non me le scrivete Sotto Nei commenti Magari forse Ve ne scordate Ci può stare Bloccate il video Subito E scrivetemi Sotto il consiglio Cioè Quando vi dico Tipo adesso Come si fa Il blocco di Smeraldi Voi mettete in pausa E scrivetemelo sotto Subito Facciamo questo Giochino carino Perché altrimenti Ce ne scordiamo E io non riesco più A fare Faffo Ok Possiamo Esplorare Qualche altra isola Non ne ho idea Vediamo un po' Di qua Cosa si fa No 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 Giant Che cosa stai facendo Prima di tutto Stai facendo notte E secondo Cosa Molto più importante E che Qui abbiamo Un botto di legna Adesso E che Dovevo lasciare La La cosa Ok Dormiamo Dormiamo E come cavolo si va Ma era più logico Se me ne avessero Dati sei Scriviamo Perché ce ne sono Cinque soltanto Boh Andiamo a controllare Ancora Magari Non è che Oh io li ho presi tutti Dai che cazzo Allora qui sotto C'è roba Non so se riusciamo A farne due Cioè Ok Scaviamo qui sotto Perché con la zappa Non ho idea Vabbè mani nude Sti cazzi Ok E rompiamo qui Vediamo un po' Cosa c'è qui sotto Della roba c'è per forza Infatti c'è ferro Che c'è Utilissimo In questo cazzo Di lapislazuli Oro Vabbè io Basta Io vado a romperlo Spawner Vaffanculo No Se Se poi Mi dite Che ho fatto una cazzata Ditemelo E chiudiamo qua La serie Ok Mi squilla il cellulare Ok Rompiamo tutto il ferro Perché ci serve Io non Penso Ci siano diamanti Magari Allora ragazzi Io scavo tutto Sto coso E' inutile che vi sto a far vedere Tutti gli scavi archeologici Di 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 Narnia Cioè Rompo qui E vi dico Magari Quando finisco Vi faccio vedere Cos'ho trovato Diamanti Due diamanti Signori Ok Scaviamo su Ok Uno Un altro No Due diamanti Signori Due diamanti Ok Già avevo detto Che se trovo diamanti Vi rifaccio Ok Ora possiamo Ci vediamo Diciamo Quando finisco di scavare Non penso ci siano altri diamanti Giusto No Non penso proprio Non penso proprio Allora ci vediamo Ok Io qui Ho scavato Pure qui Silverfish Del cazzo Che palle Io ho scavato No Mucca Vai giù C'è solo Diciamo oro C'è Ho preso tutto il ferro Ci sono oro E lapislazzuli Io Ho già tantissimo oro E lapislazzuli Mi avete detto Che non serve Una ceppa E lapislazzuli E quindi Ce ne possiamo Andare via Di qui Chiudiamo Perché così Le mucche E le pecurrelle Non scappano Ok Abbiamo preso Un botto di ferro Adesso abbiamo Moltissimo Moltissimo E dico Moltissimo Ferro E è cresciuta Una zucca Ok Il ferro Qui si è raccotto Che qui c'è altro Mettiamo a cucinare 18 di ferro Incredibile Qui c'è altro ferro Ancora Prendiamo tutto il ferro Possibile Immaginabile Così facciamo anche L'armatura Signori Volevo fare Volevo fare Come si chiama Due Ho Ho Due Isole Ma Sto già registrando Troppo Fatemi sapere Mi raccomando Come si fa Il blocco di esmeraldo Con Cinque Esmeraldo grezzo Non ne ho La più palida Forse si cuoce Allora qui Mettiamo altro Dietro che c'è Ma se io facessi tipo Ok A intuito sto dando eh Boh Non so se si cuoce Lo smeraldo Grezzo Non ne ho la più palida idea Ho sentito un maialino Che è morto male Si cuoci Ti cuoci Si cuoce Speriamo che lo sto facendo Una cazzata Speriamo No Si cuoce Devo per forza cuocerlo Perché poi devo fare Un blocco di smeraldo Non ne ho la più palida idea Prendiamo altro carbone Che poi Ce n'è veramente Poco di carbone Non ne ho Non so per quale motivo Aspettiamo che Cresca tutto il L'ambaradam Qui Ci è rimasto poco Poca farina d'ossa Poi Ma la faccio io da solo Diciamo Senza che registro Vado giù Ammazzo altri Scheletri lì E scialla Z Ok Prendiamoci quest'altro seme Così e così E vediamo se No manco per il pe Ok 3 4 Ok 5 Io in tutto Penso che si faccia con Boh Facciamo No Ho sbagliato Facciamo Boh Tipo così Si fa No Come minchia si fa Madonna se l'ho cotto E non serviva Tipo così Come si fa Ok Io ho Vabbè fatemelo sapere voi Io ho cotto lo smeraldo Non so se ho fatto una cazzata O no Qui ho anche l'anguria Bene Lasciamo i diamanti Lapislazzoli Questo Questo Schalla Zio Ok Ciao mucca Perché mi guardi in questo modo Io ti butto un uovo Ok Signori È morto un maiale Non so perché Signori Io con questa cotoletta Ma la mia schina è fantastica Con questa cotoletta Vi lascio al prossimo episodio Fatemi sapere Mi raccomando Il blocco di smeraldo Come minchia si fa Non so se può darsi Che si mette un'altra cosa al centro Non ho idea Fatemi sapere Tutto signori Mi raccomando Fatemi sapere Con un bel mi piace Se vi piace questa serie Quindi signori Io spero che il video vi sia piaciuto Se il fatto che ci sia lasciato Mi piace Commentate Condividete Mi raccomando Commentate Fatemi sapere Come si fa Sto cazzarola di smeraldo Passate dalla mia pagina facebook Dal mio profilo instagram Tutto sotto l'iscrizione Il video è finito Dalla gente È tutto Ciao voglio